Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, mi scuso per ieri ma ieri me la son presa di relax totale alla fine quindi mi scuso per non aver fatto video ma oggi è una giornata importante perché gioco alla nazionale perché ci sono delle novità che vi devo riportare, esattamente due, sul mercato della Juventus e quindi prima di iniziare mi raccomando un bel like a sto video, iscrivetevi al canale e soprattutto scaricate l'app One Football, trovate il link in descrizione, migliore app per rimanere aggiornati sul calcio calcio mercato, risultati in diretta, avete tutto, tutto in una semplice app gratis, gratis ora, prima di iniziare breve preambolo sulla nazionale, ragazzi avete visto, c'è la Francia che individualmente sulla carta ha dei nomi importantissimi, sulla carta presi uno a uno sono molto più forti di noi avrebbero anche tre nazionali probabilmente senza contare tutti quelli che non sono stati convocati Ternande, Zawar, c'è tutta gente che nelle altre nazionali giocherebbe titolare però vedete steccano e la cosa che ho notato io è che nessuno gioca da squadra come l'Italia poi ragazzi, queste sono partite secche, o così o pomì, la si può svangare in qualsiasi modo però, insomma, non dobbiamo sminuire quel che ha fatto l'Italia fin qua, dobbiamo esaltarlo poi, ripeto, adesso ci aspettano delle sfide importanti e vedremo chi la spunterà, ecco però quest'Italia, sul piano del gioco, mi ha convinto più di tante altre squadre più blasonate per quanto ho visto finora cioè una Francia che ha giocato bene con la Germania e poi con l'Ungheria insomma, non vuol dire nulla, i valori in questi torni qua cioè non si percepiscono in certe gare non si percepiscono perché molto spesso conta di più l'agonismo conta il singolo gesto tecnico individuale che ti sblocca la partita ok, chiuso a parentesi speriamo, insomma, di qualificarci come premi di battere il Galles di Aaron Ramsey ora, parliamo invece di mercato perché ho visto il video del buon Romeo Neagresti che ha sparato questa notizia e quindi dobbiamo commentarla, ragazzi la Juventus sta preparando la prima offensiva per Manuel Locatelli l'offensiva cosa prevede? prevede un'offerta molto interessante con soldi più contropartita tecnica la contropartita tecnica è Dragusin Dragusin che viene valutato dalla Juventus circa 10 milioni ora vedremo se il Sassuolo accetterà o se si arriverà ad una contrattazione perché se si rifiuta il Sassuolo cioè se rifiuta il Sassuolo di quest'offerta qua significa che c'è ancora distanza se c'è margine di trattare da questa offerta qua significa che invece le distanze non sono poi così ampie e per trattare intendo o più soldi o l'inserimento di un'altra contropartita tecnica che potrebbe essere a quanto pare Raffia o Raffia lui, avete capito, no? ora, parliamo di Manuel Locatelli ragazzi, io ho dell'idea che se la Juventus lo vuole deve fare di tutto per prenderlo di tutto di tutto di tutto per cui se l'obiettivo numero uno anziché sparare tutte queste cose a giornalisti e far uscire queste voci qua su quel che gli interessa a noi e poi non cagliare nulla preferisco che la Juventus faccia uno sforzo e dice voglio questo perché Allegri vuole questo lo prendo vado fino in fondo poi ovviamente non è che dobbiamo fare i fessi dobbiamo svenarci per un giocatore che non merita che non merita insomma questo sforzo qua Locatelli è un giocatore che per 40 milioni tutto sommato in base alle formule di pagamento in base a un sacco di altre cose può essere un buon affare per la Juve voi mi direte di no dipende ragazzi dalla percezione che avete del giocatore a me piace per cui a me piaceva anche Chiesa dicevo forse 60 milioni sono troppi però il valore del giocatore non si discute poi anche over performato rispetto a quelle che erano le mie aspettative per carità divina però insomma occhio perché con Locatelli potrebbe succedere la stessa identica cosa per cui stiamo qui a dare giudizi molto affrettati sul suo valore assoluto ma a mio parere è un ottimo giocatore 40 milioni li potrebbe valere dipende insomma da quanto è disposta la Juve a pagarlo e quanto è importante a Locatelli nella Juve che verrà perché è questo che vai a pagare anche nelle trattative quindi Locatelli 30 milioni più Dragosin può essere una buona mossa per me lo è perché vi dico questo perché Marlon del Sassuolo sta andando allo Shakhtar per cui c'è da rimpiazzare qualcuno c'è Marlon che va rimpiazzato serve un nuovo difensore centrale al Sassuolo e credo che insomma il tempismo con cui sta arrivando questa offerta è perché dall'altra parte si stava chiudendo invece quella a fare in uscita cioè il Sassuolo stava per cedere Marlon quindi la Juventus ha messo subito un difensore centrale una pezza per tappare quel buco lasciato dal buon Marlon uno dei giocatori che poi perde Zerbi era fondamentale insieme al Manolo Locatelli per cui vedremo in risposta del Sassuolo se ci sarà da aggiungere del grano perché magari la quotazione di Dragosin non corrisponde insomma ai canoni del Sassuolo ovvero il Sassuolo non lo valuta 10 milioni lo valuta meno e quindi a quel punto si dovrà trovare un'altra cosettina o un po' più soldi o 35 più Dragosin o 30 più Dragosin e ripeto la fia vedremo che cosa succederà foto sta che la Juventus intanto la prima offensiva l'ha fatta l'abbiamo accusata di essere dormiente lo era adesso sta iniziando un po' a muoversi per quanto invece riguarda ragazzi la notizia legata al insomma all'iniezione di moneta e denaro che darà la Exor la ricapitalizzazione come si suol dire arriverà arriverà quanto pare stimata di 400 milioni voi adesso pensate ah con questi soldi compriamo mercato no ragazzi 400 milioni sono per un piano di rilancio che dovrà portare a degli utili e quindi non è che la paghetta della nonna che tu vai saluti la nonna e ti dà 50 euro e poi te li spendi al bar no non è così non funziona così questi 50 euro è come qualcosa che io te li do ti compri l'attrezzatura l'attrezzatura deve portare a tot lavoro e tot lavoro mi deve riportare indietro tot soldi cioè è questa la situazione qua andranno a ripianare ovviamente i debiti lasciati dal covid la Juventus non effettuerà quest'anno nessuna campagna abbonamenti e c'è da capire anche questa roba qua perché ragazzi la campagna abbonamenti iniettava nelle casse della Juventus moneta assonante per circa 40 milioni di euro cioè non netti 40 milioni di euro insomma ogni estate arrivavano nelle casse della Juventus quelli erano soldi che servivano per pagaristi era insomma liquidità immediata invece con le campagne insomma abbonamenti bloccate eccetera la Juventus dovrà cercare di riavere un po' di liquidità e vedremo se questa ricapitalizzazione servirà a pianare tutti i debiti a insomma ripartire e adesso il piano sarà sicuramente l'abbassare i costi dell'intera macchina ci sono anche investimenti immobiliari che sono stati fatti e servono quei soldi anche probabilmente anche per quegli investimenti immobiliari l'area della continassa il J-hotel e tutte quelle strutture là non è che si campano da sole ecco per intenderci per cui la Juventus ha creato una macchina potenziale da soldi che non è riuscita ancora a mettere in moto pienamente per via del covid i costi però ci sono e quindi questa ricapitalizzazione serve per i costi ok quindi è probabile che non ci sia l'affanno per la cessione di tanti giocatori e per la corsa alle plus valenze proprio per questo motivo ma la Juventus ripeto ha come obiettivo primario sicuramente quello di abbassare i costi ed è per questo che verrà attuata secondo me una politica molto basata sui giovani da acquistare o su gente sconosciuta quindi bisognerà tornare un po' al vecchio scouting al sano scouting perché in questo modo hai la possibilità di prendere giocatori forti sconosciuti magari e quindi con una quotazione dal punto di vista dell'ingaggio più bassa rispetto al classico mainstream questo è signori noi ci vediamo alle 20 circa quando finirà la partita dell'Italia col Galles giocheranno in diretta per chiudere insomma la questione di girone domani ci saranno otto partite quindi no quattro partite otto squadre giocheranno due gironi uno alle 18 l'altro alle 21 per cui tanti tantissimi appuntamenti in questi giorni domani torna la live del calciomercato del popolo insomma ragazzi carne al fuoco ne abbiamo un abbraccio a voi e sempre fino alla fine forza Juve